I carabinieri del nucleo operativo ecologico avranno un presidio anche in città. Si è conclusa la fase di valutazione che ha coinvolto tre diversi ministeri. Il decreto istitutivo è pronto, lo dice il senatore Pietro Orefice che ha seguito l'evolversi della procedura. E' stato trasmesso alla Corte dei Conti per la relativa registrazione. C'è stata la possibilità, aggiunge l'Orefice, di portare a termine il coordinamento tra i ministeri interessati. La presenza sul territorio locale dei carabinieri del Noe a più riprese è stata rilanciata anche dalle associazioni ambientaliste in un'area a forte incidenza industriale che ancora oggi risente dell'impatto ambientale che si è manifestato nei decenni. I militari dell'arma specializzati potrebbero rappresentare una maggiore salvaguardia. Soprattutto le aree rurali continuano a patire le conseguenze di smaltimenti illeciti di rifiuti ma anche di altre azioni che deturpano il territorio. I roghi e rifiuti sversati tra i campi sono solo alcuni segnali di una realtà sicuramente segnata da veri affronti all'ambiente, alla salvaguardia di aree anche sottoposte a vincoli come nel caso della riserva orientata a viviere. Uno dei responsabili, Emilio Giudice, in diverse occasioni ha chiesto di valutare la presenza stabile dei carabinieri del Noe. I militari dovrebbero trovare collocazione nella caserma di Piazza Roma dove è già allestito un posto fisso che fa riferimento al reparto territoriale che ha invece sede principale nella caserma di via Venezia. Il Noe dei carabinieri è già attivo in altre aree dell'isola ma sul territorio non c'era mai stata una presenza stabile che ora pare possa concretizzarsi a breve. La riconversione green nella raffineria di Contrada Piana del Signore ha in parte allentato la pressione dell'industria pesante ma i rischi non mancano come ha dimostrato il recente incendio che si è sviluppato nell'impianto ecofining proprio della nuova green refinery. Al momento non pare possibile delineare una tempistica precisa per la via ufficiale delle attività del Noe in città e nel territorio limitrofo. Probabilmente il decreto conterrà ulteriori indicazioni. Di recente la procura locale ha ufficializzato un'intesa con l'ARPA regionale che ha avviato le attività di polizia e giudiziaria attraverso una sezione locale. I PM della procura hanno più volte avviato indagini su illeciti che toccano il territorio e la salvaguardia dell'ambiente. Un supporto stabile del Noe dei carabinieri potrebbe rappresentare un altro tassello importante in una città che ha risentito in maniera pesante dei risvolti dell'industrializzazione che deve fare i conti anche con tante situazioni al limite. In un territorio classificato come SIN oggi è presente anche un'intera filiera dell'impiantistica dei rifiuti a partire dalla discaricata in pazzo che negli scorsi mesi è tornata a far discutere. Ci sono anche tanti procedimenti di bonifica che non sono mai entrati nel vivo con bastiare fortemente compromesse.